La passione per la bici è rimasta sveglia tutta la notte, è stata la festa della bici, la Bike Night Emilia Romagna 2022, che nella notte tra sabato e domenica, 12 giugno, ha illuminato la destra poda a Ferrara al mare, con 900 ciclisti di tutte le età, provenienti da ogni parte d'Italia. Giunta all'ottava edizione, la Bike Night da Ferrara a Lidovolano ha segnato la via del tour delle pedalate notturne di 100 km, organizzate da WeTour, tante cicliste, oltre il 20% del totale, tanti anche i giovani e i meno giovani, di gruppi di amici, famiglie e con bambini al seguito, il 60% dei partecipanti, dicono gli organizzatori, provenivano da fuori provincia. Raduno da Piazza Trento Trieste alle ore 21 di sabato, poi dalle 23.30 all'incolonnamento dei ciclisti sul listone e a mezzanotte la partenza a direzione mare, 100 km davanti, il percorso cicloturistico lungo la destra Po, ha previsto tre ristori, a Rò, a Serravalle e a Santa Giustina, fino alla colazione a Lidovolano, direttamente in spiaggia. Prossime tappe, Milano-Lago Maggiore il 25 giugno e Alpe Adria con partenza da Udine il 23 luglio.